Bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi, sono Elisa True Crime e come ogni lunedì e venerdì mi siedo qua con voi e vi racconto una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Vi ricordo che lo scopo del mio canale e dei miei video è quello di denunciare, diffondere consapevolezza ma soprattutto di ricordare le vittime di queste storie senza ovviamente mancare di rispetto a nessuno. Ma prima di iniziare la storia di oggi voglio ringraziare lo sponsor di questo video, il mio amatissimo Surfshark VPN. Come ormai tutti saprete vivo in Cina e senza un VPN mi sarebbe impossibile continuare a postare video su YouTube perché come ormai sapete qua in Cina tutto ciò che è Google è censurato compreso YouTube. Quindi quando si parla di VPN io sono un'esperta, ne uso diversi ovviamente ma quello su cui so di poter sempre contare è proprio Surfshark. Per quelli di voi che non sanno cos'è un VPN ve lo spiego subito. Un VPN è un sistema che sostanzialmente nasconde la tua navigazione o meglio la sposta in giro per il mondo e spostando la vostra navigazione vi permette di navigare sul web in modo sicuro. Evitando tutti i rischi che come ormai sappiamo si corrono stando su internet. Protegge la tua identità soprattutto dai wifi pubblici in cui i tuoi dati sono molto più esposti e molto più a rischio. Blocca tutta la pubblicità invasiva. Sicuramente vi sarà capitato almeno una volta nella vita di parlare con qualcuno di qualcosa e poi di andare su internet e di trovarvi la pubblicità di quella cosa lì proprio di cui stavate parlando prima. Non so voi ma per me è molto inquietante. Ecco questa cosa con Surfshark VPN non succede più. Protegge i tuoi conti bancari online ma non si limita solo a questo. La mia parte preferita è che con Surfshark VPN puoi accedere a tutti i contenuti del mondo. Per esempio se guardate Netflix sapete come ogni paese ha dei contenuti diversi. Quindi se per esempio volete vedere una serie oppure un film che è disponibile solo su Netflix America vi basta cambiare la località del vostro VPN e puff automaticamente siete in America e potete vedere tutti i contenuti di Netflix America. Questo ovviamente non vale solo per Netflix anche su YouTube ci sono tanti contenuti che non sono disponibili nel tuo paese a me succede di continuo. Usando Surfshark potrete vederli e tutto questo costa veramente pochissimo perché se utilizzerete il mio codice sconto ELISA otterrete non solo l'83% ma anche tre mesi interamente gratuiti. Trovate il link sotto in descrizione prego non c'è di che. Iniziamo con la storia di oggi. Oggi parliamo di una sparizione molto misteriosa che vi lascerà davvero un sacco di domande. Per molti versi questo caso mi ricorda quello di Magdalena Zuck. Zuck. Non sarò mai in grado di pronunciarlo bene. Oggi parliamo della sparizione di Lars Mittank. Lars Joachim Mittank nasce il 19 febbraio del 1986 a Berlino in Germania e nel giugno del 2014 decide di fare un viaggio di piacere, una vacanza, con un gruppo di suoi amici e decidono come meta Varna in Bulgaria, precisamente un posto che si chiama Golden Sands che significa sabbie dorate. E questo è un posto famoso in tutta Europa proprio per i tantissimi divertimenti concessi ai turisti. Dalle incredibili feste notturne sulla spiaggia, tutte le attività anche diurne come moto ad acqua, partite di beach volley, massaggi sulla spiaggia. Insomma un posto perfetto per ragazzi giovani che vogliono divertirsi. Esattamente il motivo per cui gli amici di Lars avevano scelto proprio questa meta. Ma Lars all'inizio non è proprio convinto di andare perché questo tipo di viaggi, questo tipo di feste in spiaggia eccetera non erano molto da lui. Lui era solito fare vacanze più tranquille o finalizzate più allo sport. Lars era una persona molto sportiva quindi una vacanza all'insegna di questo tipo di divertimento non gli interessava. Difatti all'inizio Lars aveva deciso di non andare. Ma proprio all'ultimo minuto uno di questi ragazzi di questo gruppo ha un imprevisto e non può andare. E dato che gli altri ragazzi avevano già prenotato la vacanza, prenotato l'hotel, chiedono a Lars di prendere il posto di quel loro amico. E dopo un po' riescono a convincerlo anche perché in quel periodo Lars era proprio in vacanza, era libero, non doveva neanche lavorare. Quindi alla fine Lars si fa convincere e decide di andare. Quindi Lars e i suoi amici partono il 30 giugno e sarebbero dovuti tornare a casa, ripartire il 7 luglio. E una volta lì pernottano in un bellissimo hotel a quattro stelle che si chiamava il Viva Club Hotel. Quindi i ragazzi partono, arrivano, passano i primi giorni all'insegna del divertimento, si godono la spiaggia, vanno a un sacco di feste, saltano da una discoteca all'altra. Lars però non partecipa a tutte queste feste, perché come già detto quello non era proprio il suo genere di divertimento, ma fa anche un sacco di sport, gioca a calcetto sulla spiaggia con dei ragazzi che conosce lì. Anche perché Lars amava il calcio, era il suo sport preferito. Comunque chi in un modo, chi in un altro, si stanno tutti divertendo, compreso Lars. E durante i primi giorni di questa vacanza non succede nulla di anomalo. Fino al 3 luglio. La sera del 3 luglio Lars insieme ai suoi amici vanno in un bar. Questo era un bar sportivo e ci vanno proprio per guardare una partita di calcio. Perché in quel periodo c'era proprio il campionato mondiale, qualcosa del genere, non ne capisco niente di calcio, comunque era una partita molto importante. E giocavano l'Olanda contro la Costa Rica. E ad un certo punto, mentre stavano tutti guardando questa partita, Lars inizia a discutere con degli altri turisti che erano in questo bar, anche loro tedeschi. E il motivo della discussione era, ovviamente, la partita, il calcio. Un motivo futile, insomma. Infatti questa discussione a un certo punto si spegne e finisce lì. Lars e i suoi amici sono gli ultimi a lasciare questo bar alle 4 del mattino. E mentre stanno tornando all'hotel, uno degli amici di Lars chiede di poter fare una tappa da McDonald's per prendere qualcosa da mangiare. Ma Lars, che era una persona appunto molto sportiva e aveva uno stile di vita molto sano e stava attento alla sua alimentazione, non voleva mangiare quel tipo di fast food alle 4 del mattino. Quindi decide di separarsi dai suoi amici. Gli dice voi andate pure da McDonald's, ci vediamo in camera. E decide di incamminarsi da solo verso l'hotel. L'hotel distava circa un chilometro da lì. E lungo la strada Lars viene avvicinato da un gruppo di ragazzi di nazionalità russa che senza nessun motivo lo aggrediscono e iniziano a picchiarlo. Il motivo davvero non si sa. Ma Lars è convinto che questi ragazzi siano stati pagati dai turisti tedeschi con cui aveva discusso precedentemente al bar. Sostiene che in quella zona era molto facile trovare qualcuno che in cambio di denaro facesse una cosa del genere come aggredire qualcun altro e picchiarla. Comunque dopo questo pestaggio Lars appunto torna in hotel e chiama sua mamma e le racconta l'accaduto. Le racconta che aveva riportato diverse ferite, tutte superficiali, ma una in particolare all'orecchio gli faceva particolarmente male. La madre allora lo spinge ad andare al pronto soccorso a farsi visitare. Ma Lars non vuole andarci, dice che non ha niente di rotto, sono solo ferite superficiali, che il dolore era normale perché era appena successo. Quindi decide di non andare all'ospedale e decide di aspettare che passassero da sole. Nei giorni successivi Lars continua la sua vacanza con i suoi amici come se niente fosse successo. Anche a loro racconta ovviamente di questo pestaggio, anche con loro condivide la sua teoria che questi ragazzi russi siano stati pagati da quei ragazzi con cui aveva discusso al bar. Anche se di questa cosa non ha nessuna prova, è solo una sua teoria. Il suo orecchio però continua a fargli male e inizia a preoccuparsi delle conseguenze di prendere un aereo con una ferita all'orecchio. Perché sapete sull'aereo la pressione è molto forte, quindi comunque non è il massimo salire su un aereo con un danno dentro l'orecchio. Quindi il 7 luglio, giorno in cui Lars e i suoi amici dovevano partire per tornare a casa, Lars decide finalmente di andarsi a far vedere da un dottore. E il dottore lo visita e scopre infatti che Lars aveva un timpano perforato e gli proibisce categoricamente di volare con un danno del genere. Gli consiglia invece di passare alcuni giorni in ospedale per riprendersi prima di mettersi in viaggio. Quindi Lars torna dai suoi amici che ormai erano pronti per partire e gli dice che lui non sarebbe andato con loro. Gli dice di non preoccuparsi di andare pure e che lui si sarebbe fatto curare questo orecchio e sarebbe partito poi il giorno dopo. E li tranquillizza anche dicendogli che aveva una buona assicurazione sanitaria che aveva fatto prima di partire. Che gli avrebbe coperto anche lo spostamento poi per tornare a casa perché aveva un servizio di trasporto pazienti. Quindi gli dice che non avrebbe neanche dovuto pagare il viaggio di ritorno perché appunto ci avrebbe pensato l'assicurazione. E gli amici si fanno convincere, gli dicono che andava bene e partono senza di lui. Lars quindi prende un taxi e si fa portare all'ospedale e si fa visitare l'orecchio da uno specialista. Che però a quanto pare non parlava ovviamente tedesco e non parlava neanche inglese. Alcune fonti addirittura sostengono che questo dottore facesse un po' finta di non saper come comunicare con lui. Che per qualche motivo non voleva farsi capire intenzionalmente. Fatto sta che questo dottore si rifiuta di far ricoverare Lars. Come invece gli aveva consigliato di fare l'altro dottore. E gli prescrive un antibiotico da prendere di cui vi metto la foto e il nome che sarà importante più avanti nel video. Quindi quella stessa sera uscito da questo ospedale prende un taxi e si fa portare nella farmacia più vicina per comprare questo antibiotico che il dottore gli aveva prescritto. Ma la farmacia più vicina non ha questo antibiotico quindi Lars risale sul taxi e si fa accompagnare in un'altra farmacia. E a questo punto sono le 10 di sera. E dopo aver comprato questo antibiotico Lars chiede al tassista di portarlo in un hotel economico in cui può passare la notte. Ma purtroppo era alta stagione quindi tutti gli hotel più decenti erano completamente pieni. Ma il tassista gli dice che conosceva lui un hotel che lo avrebbe ospitato e quindi decide di portarlo lì. Questo hotel si chiamava Colors ed era fuori dal centro della città. Era in una zona che Lars capisce subito non essere proprio una bella zona. Era molto isolata e comunque c'era tra virgolette brutta gente in giro. Lars nota subito degli individui che sembrano un po' loschi. Ma purtroppo non aveva altra scelta doveva pur passare la notte da qualche parte. Quindi Lars entra in questo hotel, fa il check-in, va in camera e chiama subito sua madre. L'avverte che appunto non aveva preso l'aereo, non sarebbe tornato a casa quella sera, che aveva deciso di curarsi questo orecchio e che sarebbe partito il giorno dopo. E sua madre racconta che Lars al telefono era molto strano. Sembrava molto spaventato, inquieto. Le racconta meglio nei dettagli tutta la storia della lite nel bar, dei russi per strada. Le racconta che il dottore non aveva voluto farlo ricoverare. E che lo aveva addirittura preso in giro e aveva riso di lui. E che lo aveva proprio mandato via. Chiede anche a sua madre di chiamare l'assicurazione sanitaria. Perché appunto voleva sfruttare quel loro servizio del trasporto pazienti. Allora la madre riaggancia il telefono, fa questa telefonata a questa assicurazione sanitaria e poi richiama subito Lars. E quando Lars risponde, inizia a comportarsi in modo ancora più strano. Al telefono sembra ancora più spaventato di prima e dice a sua madre che c'è qualcosa di strano in quell'hotel. Dice a sua madre che è sicuro che gli abbiano clonato la carta di credito. Che gli aveva visti fare cose strane con la sua carta di credito mentre faceva il check-in. E chiede a sua madre di cancellargiela subito. Di bloccarla in qualche modo. Le dice di farlo immediatamente e che l'avrebbe poi sbloccata lui una volta arrivato a casa. Quindi sua madre di nuovo riaggancia il telefono, telefona alla banca e prova a capire se era possibile questa cosa. Se era possibile bloccare una carta di credito e poi riattivarla. Ma l'impiegato della banca le dice che non è possibile. Una volta che blocchi una carta di credito è bloccata e basta. Non puoi riattivarla. Devi farne una nuova. Quindi la madre ritelefona a Lars e gli riferisce quello che l'impiegato della banca le aveva detto. Ma Lars insiste. Le dice che aveva abbastanza contanti per poter stare senza carta di credito un giorno in più. E le dice di farlo. Deve cancellarla. Deve bloccarla adesso. E lei allora lo fa. Però a questo punto ha un bruttissimo presentimento. È molto preoccupata per suo figlio che era così strano. E decide quindi di prenotargli un autobus. Nel caso in cui con l'assicurazione avessero avuto qualche problema. Nel caso in cui non gli avessero permesso di volare anche il giorno dopo. Prenota questo autobus per sicurezza. Così in ogni caso lui aveva un modo per tornare a casa il giorno dopo. Questo autobus sarebbe partito da Varna il giorno dopo alle 23.30 di sera. E a quel punto sua madre dice a Lars di andare a dormire. E riagganciano il telefono. Ma qualche ora dopo Lars la chiama di nuovo. E ripete quella frase che le aveva già detto. C'è qualcosa di strano in questo hotel. Ma non specifica che cosa. E poi dice devo andarmene da qui. E poi riattacca il telefono. E intorno alle due e mezza del mattino richiama di nuovo sua madre. E le dice che era uscito dall'hotel. Aveva preso tutte le sue cose ed era uscito. E che in quel momento era per strada. E c'erano quattro uomini che lo stavano seguendo. E parlava a voce molto bassa per non farsi sentire. Ed era palesemente terrorizzato. E dopo un po' riattacca di nuovo il telefono. E alle tre del mattino. Quindi circa mezz'ora dopo da questa strana telefonata. manda un sms a sua madre. Con scritto il nome di quell'antibiotico che il dottore gli aveva prescritto. E con scritto che cos'è. Quindi questo Cersfield 500 che cos'è. Ora questo era un antibiotico come tanti altri. Perché avesse scritto questo messaggio a sua madre. Non si sa. Non si capisce. Sua madre in quel momento poverina. Non sa assolutamente cosa fare. Suo figlio le stava mandando questi messaggi strani. Le stava dicendo che si stava nascondendo da quattro uomini che lo seguivano. Di conseguenza lei decide di non chiamarlo più. Decide di stare lì vicino al telefono in caso lui l'avesse chiamata. Ma decide di non chiamarlo lei. Nel caso in cui lui si stesse davvero nascondendo. Per paura di fargli squillare il cellulare. Di farlo scoprire da questi uomini. Ma mentre aspetta sue notizie decide di prenotargli anche un volo aereo. Decide di non aspettare più notizie dall'assicurazione sanitaria, servizio, trasporto pazienti, chi se ne frega. Decide di prenotargli un volo per il giorno dopo che sarebbe partito dalla Bulgaria, da Varna, alle 4.20 del pomeriggio. Quindi sia il volo che questo autobus erano prenotati per il giorno, vabbè sto dicendo giorno dopo ma in realtà era quel giorno perché a questo punto sono le 5 del mattino dell'8 luglio. Quindi alle 4.20 di quel pomeriggio avrebbe avuto questo volo che gli aveva prenotato sua madre. In alternativa l'autobus alle 23.30 della sera. Ci siamo. Quindi sono le 5 del mattino e Lars riesce a prendere un taxi e riesce a farsi portare all'aeroporto. Il tassista racconta che palesemente Lars aveva qualcosa che non andava, nel senso che era visibilmente scosso, terrorizzato, irrequieto. Quando Lars arriva all'aeroporto telefona subito a sua madre e il motivo per cui non le aveva telefonato prima è che aveva il telefono scarico, quindi stava cercando di ridurre al minimo l'attività con il suo cellulare. Quindi le telefona, la tranquillizza, le dice che è già all'aeroporto, non importava se il volo era al pomeriggio, almeno lì si sarebbe sentito al sicuro. La madre allora gli dice di cercare l'ambulatorio medico che c'è in tutti gli aeroporti e di parlare con il dottore e chiedergli se poteva viaggiare, chiedergli di visitargli di nuovo l'orecchio, chiedergli un parere. E Lars risponde una cosa strana, risponde non mi lasciano guidare né volare. Non si capisce a chi si stia riferendo. E dice a sua madre anche di essere tutto sporco, di terra, perché si era appunto nascosto da quei quattro uomini durante la notte, quindi era insomma ricoperto di terra, al che la madre gli dice di andare in bagno e di darsi una sciacquata e di richiamarla appena aveva finito. Ma dopo un po', la madre, vedendo che Lars non la stava richiamando, decide di chiamarlo lei. E a questa telefonata Lars risponde, ma risponde come se avesse risposto per sbaglio. Sapete quando l'altra persona prende la telefonata per sbaglio, magari al telefono in tasca, e voi sentite soltanto delle voci in lontananza, in strane o il fruscio del pantalone, della tasca. Ecco, la madre di Lars sentiva questi rumori qua e quindi suppone che appunto Lars abbia preso la telefonata per sbaglio e quindi riattacca. Ma purtroppo quella sarebbe stata l'ultima telefonata a cui Lars avrebbe risposto. Perché la madre proverà a chiamarlo ancora e ancora e ancora, ma Lars non risponderà mai più al telefono. Il telefono squillava, ma Lars non rispondeva. Ma dalle telecamere dell'aeroporto e dalla testimonianza del dottore dell'aeroporto sappiamo che intorno alle 9 di quella mattina Lars va in questo ambulatorio medico e si fa visitare l'orecchio. Questo esame dura circa 40 minuti. Il dottore gli mette alcune gocce e voleva anche dargli delle pastiglie, ma Lars si rifiuta di prenderle. Il dottore gli dice che comunque poteva volare, non c'erano danni così tanto gravi, ma ad un certo punto in questa stanza nell'ambulatorio medico entra un uomo con indosso un uniforme tipo dell'aeroporto, quindi era una persona che lavorava lì. E appena Lars lo vede, va subito nel panico più totale. Inizia a mugugnare qualcosa e dice qualcosa tipo Non voglio morire qui, devo andare via di qui. E a quel punto si alza dalla sedia e corre via, come potete vedere in questo filmato. E scappa via, lasciando nell'ambulatorio tutte le sue cose. Lascia il cellulare, lascia il suo borsone, il suo zaino, tutte le sue cose. Corre fuori dall'aeroporto, continua a correre attraverso il parcheggio, salta anche una piccola staccionata e continua a correre, finché le telecamere non lo riescono più a riprendere. E da quel momento nessuno ha più avuto sue notizie, nessuno l'ha mai più visto. Ora, nei giorni successivi ovviamente sua madre ha denunciato la sua scomparsa ed è partita un'investigazione. Dei detective sono andati in questo aeroporto insieme alla madre e anche un investigatore privato che la madre aveva assunto. E hanno iniziato subito a fare delle domande al dottore che l'aveva visitato perché era l'ultima persona ad averlo visto. E questo dottore racconta appunto la sua versione dei fatti e racconta anche che Lars era scappato via dopo aver visto quest'uomo, quest'uomo che era entrato nell'ambulatorio. Ma quando gli investigatori tentano di capire chi fosse quest'uomo, il dottore cambia versione tre volte nel corso dell'interrogatorio. La prima versione era che quell'uomo lavorava per la linea aerea del volo che doveva prendere Lars alle 4.20 di quel pomeriggio e che era entrato nella stanza proprio cercando Lars. Ma questa cosa non ha molto senso perché a quel punto erano le 9 del mattino, quindi perché mai qualcuno di quella linea aerea lo cercava già alle 9 del mattino? Ma poi questo dottore cambia versione e dice che quest'uomo era in realtà uno che lavorava per l'aeroporto. Non si sa bene cosa, dove, perché. Era un impiegato dell'aeroporto. Ma perché un impiegato dell'aeroporto può entrare indisturbato dentro l'ambulatorio del medico mentre sta facendo una visita? Questa cosa non ha senso. Io ho lavorato dentro un aeroporto e comunque ci sono delle regole molto precise. Uno non può fare proprio quello che vuole. E nell'ultima versione il dottore cambia totalmente storia e sostiene di non sapere chi fosse quest'uomo. Quindi, ok. Poi la madre di Lars chiede agli addetti della sicurezza dell'aeroporto i filmati. Tutti i filmati, così da vedere i movimenti di Lars. Ma subito le rispondono che i filmati non erano al momento disponibili. E questi video glieli forniranno dopo un po' di tempo. E la madre, vedendo quelle registrazioni, sostiene che suo figlio sapesse quello che stava facendo. Chiaramente lei conosceva suo figlio e sostiene che non era in stato confusionale. Sapeva esattamente quello che stava facendo. E quindi ha fiducia nel fatto che suo figlio si sia andato a nascondere in un posto sicuro. Perché le sembrava avesse un piano. Ma una cosa molto strana è che i video che le vengono mostrati, delle telecamere di sicurezza, sono molto pochi. Tanti mancano proprio. Per esempio non c'è il filmato di quando Lars arriva in aeroporto. Oppure ad un certo punto il dottore aveva detto che Lars aveva chiesto di andare un attimo in bagno. Non c'è il filmato di quando Lars esce dall'ambulatorio e va in bagno. In questa foto per esempio si vede Lars che sta mangiando qualcosa, ma non c'è il filmato di Lars che si ferma a comprare questa cosa da mangiare. Quindi perché ci sono così pochi filmati? Un'altra cosa molto inquietante riguarda i bagagli di Lars. Lars è scappato lasciando tutte le sue cose in aeroporto, che vengono poi date alla madre. E avevano fatto una lista di tutte le cose che erano all'interno di questi bagagli. E la lista era scritta in bulgaro, ma la madre di Lars conosceva il russo. Di conseguenza il russo è molto simile al bulgaro, quindi insomma è stata in grado di leggere questa lista. In più suo figlio era molto ordinato e aveva l'abitudine di tenere sempre anche tutti gli scontrini delle cose che comprava. E sua madre infatti dice che mettendo insieme tutti gli scontrini che aveva trovato in mezzo alle sue cose, mettendoli in ordine cronologico, uno poteva quasi rivivere tutti gli spostamenti che Lars aveva fatto durante la sua vacanza. Ma la cosa strana è che nella lista delle sue cose, delle cose presenti in questi bagagli, erano presenti anche le due confezioni di antibiotico che Lars doveva prendere. E nella lista c'erano appunto due confezioni. In una confezione c'erano sette pastiglie, invece di dieci, insomma ne mancavano tre, e l'altra confezione invece era intera. Quindi questo indicava che Lars, fino al momento della sparizione, aveva preso tre pastiglie di antibiotico. Il punto è che queste cose erano scritte sulla lista, ma poi fisicamente queste due scatole di antibiotico non c'erano, mancavano ed erano le uniche cose a mancare. Dove erano questi antibiotici? Il giorno dopo sua madre insieme ad un avvocato tornano in questo aeroporto e chiedono spiegazioni. La madre di Lars pretende spiegazioni. Dove sono questi antibiotici? E ad un certo punto la madre inizia a sentirsi fortemente a disagio, perché iniziano tutti a darle delle risposte molto vaghe, molto strane, e inizia a pensare le stesse cose che suo figlio le aveva detto. C'è qualcosa di strano qui, voglio andare via da qui. E persino il suo avvocato, che non ho capito se era il suo avvocato che si era portata dietro dalla Germania o se era un avvocato che aveva contattato sul posto, non sono riuscita a trovare questo dettaglio, e comunque persino il suo avvocato inizia a fare delle strane considerazioni sul figlio. Tant'è che a un certo punto le consiglia addirittura di smettere di cercarlo. Ora, purtroppo, ad oggi nessuno ha mai più avuto notizie di Lars. Nessuno sa che cosa gli sia successo. Ovviamente ci sono tantissime teorie che circondano questo caso. La prima teoria è che Lars abbia finto tutto, che abbia inscenato tutta questa cosa per poter scappare via e cambiare vita. Chi lo conosce sa che Lars era uno che riusciva a cavarsela in ogni situazione, era uno che sapeva pescare, sapeva cacciare, quindi sarebbe in grado di vivere nei boschi o all'aperto per molto tempo e riuscirebbe a sopravvivere tranquillamente. Quindi c'è gente che pensa che sia ancora da qualche parte là fuori. Personalmente non credo molto a questa teoria, anche perché dalle mie ricerche Lars mi sembrava una persona molto attaccata alla madre, molto felice della sua vita. Aveva anche un lavoro a cui teneva molto e non voleva neanche andare a questa vacanza, quindi non lo so. Qualcosa mi dice che questa teoria non è quella giusta. Un'altra teoria è che questi antibiotici che gli avevano prescritto gli abbiano causato delle reazioni, degli effetti collaterali molto forti, tipo psicosi, allucinazioni, paranoia. Alcuni dottori hanno dichiarato che in rarissimi casi questo antibiotico potrebbe dare degli effetti collaterali simili a questi comportamenti strani che aveva Lars. Però si tratta davvero di effetti collaterali estremamente rari. Un'altra teoria invece è che quando Lars è stato picchiato da quei ragazzi sia stato picchiato così forte da riportare un trauma cranico, che magari i dottori non hanno notato. Sicuramente un trauma cranico può causare delle reazioni simili, comunque può causare sbalzi d'umore, cambi nella personalità. L'ultima teoria invece è che questi uomini che lo seguivano, questi uomini che lo hanno aggredito inspiegabilmente, forse lo hanno costretto a entrare in un giro losco, forse lo volevano costringere a trasportare droga. E forse questo era il motivo per cui Lars era così nervoso in aeroporto, soprattutto quando ha visto una persona in uniforme entrare nell'ambulatorio e chiedere di lui. Forse questo è il motivo per cui è scappato via, ma ok, però dov'è adesso Lars? Dov'è finito? Questa storia è molto misteriosa. Comunque non ci sono state molte evoluzioni in questo caso, ma nel 2016 c'è stata una segnalazione dal Brasile di un avvistamento di un uomo senza tetto che assomigliava tantissimo a Lars. E quest'uomo non aveva nessuna memoria di chi fosse, di quale fosse il suo passato. Quindi tante persone per un periodo hanno pensato potesse trattarsi di lui, ma alla fine sono riusciti a identificarlo e non era Lars. Ma era un uomo di nome Anton che comunque era scomparso da casa sua, lui era canadese, era scomparso dal Canada cinque anni prima e non si ricorda come si è arrivato in Brasile. Quindi vabbè, la notizia positiva è che questo Anton almeno è stato portato a casa, è stato riunito alla sua famiglia. Nel corso degli anni ci sono state tantissime segnalazioni, tante persone pensavano di aver visto Lars, ma alla fine veniva sempre fuori che non era lui. La madre di Lars dopo tutti questi anni sa che le possibilità di ritrovarlo vivo sono molto poche, però non ha mai abbandonato le speranze. E queste, amici miei, sono tutte le informazioni che ho sul caso di Lars Mittank. Come vi ho detto, questo è un caso che per molti versi mi ricorda quello di Magdalena Juk e questi casi mi fanno veramente girare la testa. Non mi do pace, odio che non ci sia una conclusione, che non si sappia che cosa sia realmente successo. In questo caso non si sa neanche dove sia finito Lars. Questo è un caso ovviamente in lingua tedesca, bulgara, lingue che io non conosco, quindi se per caso ho fatto degli errori oppure se mi sono persa dei dettagli, sentitevi liberi di lasciarmi un commento. Come sempre lasciatemi un commento anche per dirmi che cosa pensate che sia successo, qual è secondo voi la teoria più probabile. Come al solito vi ringrazio di aver passato il vostro tempo con me anche oggi, ringrazio anche lo sponsor di questo video, Surfshark VPN. Ricordatevi di cliccare il link in descrizione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!